Non siamo, strozzi. Che Mas Antonio non avrebbe mai... Avrebbe capito subito che tu sapevi. Certo, perché io sono un coglione, io lo vado a dire. Avrei tenuto il segreto, no? No, non sei un coglione, ma... Lui è Mas Antonio. Avrebbe capito e se ne sarebbe andato. Riva, che c'è? Lei è proprio sicuro che... Non voglia sparire di nuovo? Questa domanda non mi piace per niente. Perché me la fa? Perché io penso di sì. E cosa glielo fa pensare? Se ne sta lassù, su quel treno tutto il giorno. Sembra uno che cerca un fantasma. Ma Mas Antonio ha dei problemi. Però io non riesco a vederli. Non riesco a... A capirli. Non ci sto riuscendo. Ma Mas Antonio sta facendo un percorso. E a volte... Spesso. Noi non lo riusciamo a capire. Si sta perdendo. Po Greco. Però io non riesco a capire. Peccato. Sia liberati. Paramo.